Una forte sensibilizzazione sul tema della pace, oltre ad essere un richiamo perché ciascuno assuma le proprie responsabilità. Questo è il senso della Marcia della Pace, la diocesi di Andrea, quest'anno svolta sia a Canosa in occasione della celebrazione della 46esima giornata mondiale della pace lo scorso 1 gennaio 2013. Il tema del messaggio del Santo Padre per questa 46esima giornata di preghiera per la pace. Il Santo Padre ci invita proprio ad avere degli atteggiamenti concreti nella vita di ogni giorno, partendo dal perdono, partendo da atteggiamenti di misericordia, di apertura verso gli altri. Il Santo Padre appunto ci invita proprio a vivere nelle nostre famiglie la pace, nei luoghi in cui viviamo, nel lavoro, nella società. La pace parte, ecco ci dice questo messaggio, proprio dai contesti più piccoli, particolari. Il corteo di fedeli partito dalla chiesa e la parrocchia Gesù Liberatore ha attraversato alcune vie della città fino a giungere in piazza San Sabino dove si è conclusa poi la manifestazione. Educarci alla pace proprio a partire dai nostri contesti vitali, ecco, a partire da piccoli impegni. È da qui che l'educazione anche può realizzarsi, a partire proprio dalla vita di ciascuno di noi.